Per lo stampateo.com Paolo Pezzati. Ciao Paolo. Ciao Luca. Allora, com'è stata la tua esperienza come candidato per le elezioni regionali del maggio scorso? Beh, è stata un'esperienza intensa sicuramente. Tra le varie cose che mi ha lasciato è stata quella di percepire la grandissima distanza che c'è tra la comunità politicizzata e i nostri cittadini. Una distanza ampissima. Beh, questo è un punto molto interessante. Puoi spiegarcelo meglio? Beh, è oramai evidente, si tocca con mano come i nostri concittadini nella gran maggior parte dei casi non siano più interessati agli sviluppi delle dinamiche politiche, partitiche. C'è veramente molta lontananza su riguardo magari dei temi che invece per il ceto o la classe politica sono definite importanti. Cosa fare per recuperare questo gap? O è possibile recuperare questo gap? È un lavoro di lungo periodo, un lavoro culturale, parte dalla scuola a mio parere. Abbiamo la necessità di creare una nuova classe di cittadini e quella lì la trovi solamente con dei programmi scolari, con una scuola che funziona, che stimola la curiosità e il senso civico. Mentre negli ultimi mesi le leggi che sono state fatte a livello nazionale tendono invece a prendere delle decisioni complessive, più che andare nello specifico del problema. Come vedi le ultime decisioni prese dal Governo nazionale? Lasciami fare una parentesi. A me sembra che stiamo vivendo in una fase di post-democrazia, stiamo vivendo in una fase di transizione dove quella che era una Repubblica parlamentare sta diventando una Repubblica dell'esecutivo, un governo forte che se ne frega della rappresentanza, che dal calo dell'affluenza alle elezioni risponde con liste bloccate o con premi di maggioranza. Quindi io vedo una classe dirigente che è staccata e non ha più voglia di rappresentare i cittadini, di capirne bisogno e trovare delle soluzioni reali ed efficaci. Quindi il percorso è tutto in salita e soprattutto anche la stessa condizione economica che si va via via un po' modificando, sembra comunque non risolvere questo distacco tra il cittadino e le istituzioni. No, assolutamente, la percezione è che il distacco aumenti e le risposte sono risposte populiste, cioè da una parte sono le ruspe e il fomentare la guerra tra gli ultimi e dall'altra parte produrre chimere. Io infatti non riconosco altro che come una chimera la riforma del lavoro, che è una delle riforme che hanno caratterizzato quest'ultimo governo, cioè noi abbassiamo le tutele perché di fatto è l'unico modo in cui si può fare politica economica in questo paese e in questo continente. Si promette sviluppo, in realtà non è sviluppo ma è perdita di tutele e di garanzie e entri in un circolo nel quale il lavoratore, cioè io e te, dobbiamo solamente sperare di avere queste tutele minime, non cercare di ottenere una vita migliore attraverso dei diritti e delle tutele che ci permettono di lavorare meglio. Grazie Paolo. Figurati. Per lo stampadio.com è tutto.